Come avere un servizio personalizzato evitando lunghe attese? Oggi, agilità è sinonimo di sicurezza. Per questo Minsight, metti a disposizione delle banche e delle compagnie assicurative la piattaforma che digitalizza il processo di prenotazione degli appuntamenti. Scommetti sull'omnicanalità su misura per te. Un'applicazione web responsive, sicura e facilmente personalizzabile che consente ai tuoi clienti di prenotare da casa o in qualsiasi posto si trovino. Ottimizza il tempo di assistenza. Fruibile in ambienti cloud, l'applicazione ti permette di pianificare gli appuntamenti con anticipo, riducendo i tempi ed evitando inutili attese. Personalizza l'attenzione al cliente. Potrai conoscere il motivo della visita in anticipo, identificare e classificare i clienti e ottimizzare i tempi di assistenza per garantire una customer experience unica e di qualità. L'attenzione al cliente. Grazie a tutti.